Peggiorare non era facile, eppure Rosario Crocetta c'è riuscito. Passare dal penultimo posto all'ultimo assoluto nella speciale classifica dei presidenti di regione più amati dai propri cittadini amministrati è davvero un compito arduo che il governatore della rivoluzione, più che altro sulla carta, è riuscito a centrare con pieno merito. Sì, di merito, in questo caso si può parlare. La rinomata agenzia demoscopica Index Research, tra le più serie e gettonate della penisola, come ogni anno stila questa particolare classifica, intervista telefonicamente i cittadini di tutte le regioni italiane e chiede il livello di gradimento dell'operato del proprio presidente. Ebbene, lo scorso anno il nostro concittadino Crocetta raggiunse l'assai poco invidiabile penultimo posto in classifica con il 32% di gradimento tra i siciliani contattati da Index Research. Quest'anno il governatore gelese è riuscito nell'impresa di fare anche peggio, ultimo e solo, nella speciale classifica. Appena il 28% degli intervistati ha dato un parere positivo sull'operato del presidente Crocetta. Al primo posto invece svetta il governatore della Puglia, Michele Emiliano, con il 58% dei consensi. Alla secondo posto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, con il 56% dei consensi. E al terzo posto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, con il 54% dei gradimenti dei cittadini liguri. Crocetta, invece, è stato clamorosamente bocciato dai siciliani, i quali, solo per la modesta cifra del 28%, hanno dichiarato di essere soddisfatti dell'azione portata dal nostro concittadino alla guida della Trinacria, effettivamente sempre più in crisi, sotto ogni aspetto. A margine di questa impiatosa classifica stilata scrupolosamente da Index Research, della cui, se d'età, nessuno si è mai lamentato, anzi, va fatta una considerazione di natura squisitamente politica. Ossia, lo scorso anno, quando Crocetta risultò penultimo di questa gradutoria, il leader regionale del PD, Antonello Cracolici, all'epoca ipercritico di Crocetta, ebbe a dichiarare pubblicamente che al presidente Gialese era andata persino bene a classificarsi penultimo. Poi, però, magicamente, Cracolici cambiò opinione su Crocetta e, guarda caso, ne divenne assessore della sua sgangherata giunta. Ci chiediamo se oggi, alla luce di questo nuovo trionfo dell'operato di Crocetta e del suo governo regionale, all'ondivago Cracolici non si è venuto un briciolo di rossore in faccia. Ma forse per maturare il rossore in faccia bisognerebbe avere un minimo di dignità, qualità persa o forse mai avuta da questa politica che ci mal amministra e mal governa.